La Cina ha lanciato un grande progetto strategico che va sotto il nome di Nuova Via della Seta in cui tende a costruire una interconnessione forte tra la Cina e l'Europa. Io credo che rappresenti una grande e straordinaria occasione per il nostro paese e per l'Europa intera di immaginare delle relazioni con il gigante asiatico in maniera diversa. Nel mondo c'è la strada della competizione e della guerra e c'è la strada della cooperazione e della pace. Questo progetto strategico, oltre a offrire opportunità di sviluppo economico e commerciale, rappresenta la Via della Pace che può unire l'Europa e il grande continente asiatico in un grande abbraccio. Questa spida ce l'abbiamo in mano e dobbiamo saper coglierne le opportunità e saperla giocare fino in fondo in maniera determinante.